E' mo' che lo sente Enrico? Oh, si è acceso, si è acceso! No! Oh, spegni, spegni, spegni! Bellissimo questo quadro. Molto bello. Marto, veramente è proprio uno spettacolo. Peccato che tu sia storto, Marto. Vuoi dire che tu sei storto? Vedi? Tu sei storto. Quanto audio? Sarebbe meglio senza audio. Ecco, così è meglio. Ma sai che ti dico? Meglio senza video. Si può spegnere? Oh, così è ancora meglio. Però forse il dottore si arrabbia, meglio se lo riaccendiamo. Marto, non so più che c'è storto, cosa. Marto, sei rotto, non si accende più. Wow, sei riacceso. Forse è anche meglio un'altra volta l'audio.